Allora salve 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 salvino miei cari amicini Allora mi state chiedendo Che cazzo è sta roba? Il volume La mia testa E niente Siccome ho notato che Produrre vlog Cioè solo vlog può essere molto repetitivo Ho detto Cos'è che ultimamente è uscito Che mi sta piacendo come gioco? Ehi! Cioè questo nuovo gioco Dei produttori di Cache of Clans Cioè Sorial e bla 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 Figo proviamolo In realtà avevo fatto già la pre-iscrizione Circa un mesetto fa Il gioco mi è piaciuto In più è una prova per vedere Posso davvero registrare con il telefono Senza fare uno schifo clamoroso? Speriamo di sì Vediamo come va la cosa Allora io mi scuso perché probabilmente si sentirà Quando toccherò qui Verso il microfono O i tappi si sentiranno Quindi speriamo che non faccia così tanto schifo l'audio Proviamo a fare qualche game Io ho già fatto Qualche game da solo Mi sono giocato tutti quanti i punti Che potevo prendere Gettoni quel che è Facciamo un game just for fun Per vedere come va Se L'idea vi piace Vi chiedo di lasciare un like E commentare Perché tanto Nel caso vi posso Oddio Posso aggiungervi agli amici E possiamo giocare anche assieme No il lag Anche qui No Ma non ora Non l'ha laggato fino adesso Dai Allora Allora come funziona più o meno questo gioco Questo vi spiego Praticamente è un 3v3 Per ora In cui bisogna raccogliere più gemme possibili E arrivando a 10 Tra tutta la squadra C'è un countdown E se si riesce a finire il countdown Con 10 gemme Tra tutti noi Abbiamo vinto Come vedete ci sono anche Vedete il countdown è partito Adesso se nessuno dei nostri muore Anche se io da solo ho tutte le gemme Quindi basta che non muoio io Abbiamo vinto Uno Parti la concursa Vittoria Dub Tutte le Tutte le gemme Avevo Ero io il migliore Ovviamente Cosa significa questa cosa What the fuck Vabbè Allora come vedete Allora In pratica il gioco si svolge così Al centro vengono spawnate queste gemme Voi dovete raccoglierle Il primo che arriva a 10 Praticamente viene Fatto partire il countdown E una volta che viene fatto partire il countdown Il primo che Paralmente finisce il countdown Con tutte 10 le gemme Allora Si vince Normalmente L'obiettivo dell'avversario È uccidere Almeno uno O due Della squadra avversaria Per Ovviamente Rubarsi le gemme Allora Io mi sono lasciato un po' di cose Da sbloccarmi Da aprire assieme Ci sono le mie statistiche Allora C'è da dire Che non ne ho persa Praticamente una Fino adesso Quindi Ehi Vuoi aggiungermi Questo è il mio Name tag Credo Abbiamo sbloccato un nuovo personaggio Oltre a quello base Annie Cos'è? Poi Ci prendiamo Ok Praticamente Quelli sono i punti Per fare Il level up Questo è una modalità Che ancora Non ho giocato Però in pratica Gli eventi Queste modalità Praticamente Sono randomiche Girano Quindi In teoria Dovrebbe essere figo E non dovrebbe Ripetersi più di troppo Il gioco E essere più randomico Tipo Le modalità speciali Di Overwatch Ok Questa cosa Un po' Molto Alla Questi che sono Radoppia I prossimi 200 di utonni Tenuti in battaglia Beh Gente che Si è proprio Dopata A fare Certi cosette Siccome ancora Non ho perso Sinceramente Non so Se si perde O meno Coppe Se vinci o perdi Quindi Tipo adesso Questa qui Vedete Non posso fare un cazzo Però c'è una nuova Nuovo personaggio Che ha Più salute E No Ha più salute E più attacco Allora Perché sta Tutto Ha più salute E più attacco Però La super No È più forte Questa Però non so Se la velocità Dell'attacco Sia Oppure sia Un combattente Ravvicinato O qualcosa del genere Ovviamente Ci sono le skin Un po' La lol Guardate per la voce Ma C'è la gola secca Ho finito l'acqua Devo andare a prenderla E non ho voglia Proviamo insieme La nuova modalità Singolo Cos'è Tipo Butter Royal Non mi sa chi sia Oppure È davvero Butter Prendi i cubi Di energia Dalle casse Per diventare Più forte E' davvero Prendi i cubi E' davvero Prendi i cubi E' davvero Prendi i cubi Aia Cazzo la parte Fa male Sono potentissimo Quello è morto da solo un coglione Cazzo la parte BOOM Vince la battle royale Pure il livello Pompini Giochi di fa tutto E non so cosa sia Vabbè figo Devo dire che non è male come Devo dire che è un gioco molto molto figo Allora Ci facciamo un'altra partita in battle royale Che secondo me può essere figa E poi vediamo se questo video ha un senso Se l'audio si sente bene A livello teorico io ci volevo mettere pure Un po' di Cioè ci avrei voluto mettere Qualcosa Un po' di editing Però non ho davvero tempo per farlo Purtroppo Dove? Dove? Bravo Che cazzo sta a 6 Noooon Terzo Che sfiga Vabbè non è male però dai Figo Mi piace Continuerò a giocarci E andrò avanti Sbloccherò un po' di cose Quando trovo roba Dove ve lo posto Ho l'intenzione di portare almeno Un video al giorno di sta roba Quindi se vi piace Lasciate un like Commentate dicendo Ehi fa schifo No continua Mi dispiace giusto per l'audio Perché purtroppo Non avendo Un microfono esterno Abbastanza comodo Per poter giocare E registrare Mi dispiace Non posso farci nulla E niente Ci vediamo Al prossimo video ragazzi Grazie per aver guardato Alla prossima